Io sono Andrea Concas e sono il founder di ArtRise, la prima start-up dell'arte che si occupa dell'autentica e della certificazione delle opere d'arte. ArtRise è il primo passaporto per le opere d'arte che traccia lo storico, l'identico e tutto il sistema di gestione dietro un'opera d'arte. Dietro un'opera d'arte esiste un mondo complesso, il fatto di certificare di autenticità, un mondo in cui oltre il 50% delle opere immesse nel mercato sono false e errate attribuzioni. ArtRise permette di tracciare queste informazioni e di verificare l'autenticità delle opere come un sistema in cui terze parti possono validare le informazioni. È una piattaforma privata, in questo momento, in fase di test, i primi di gennaio apriremo la piattaforma. Siamo in fase di fundraise e questa è la nostra cosa. Grazie. Grazie.